Scorsi che forse voi soffrite un po' queste ricorrenze in cui ci sono questi comuni familiari per voi un po' moriose e adesso invece questa luna in Sagittario è magnifica, splendida perché vi dà la possibilità di ritrovare la vostra libertà, non siete più costretti a fare qualcosa ma fate quello che vi pare, quello che vi piace, quello che vi fa stare bene, questa è una giornata fortunata per l'amore, per i rapporti anche con gli altri, quindi ritrovate vitalità anche se poi fondamentalmente è una luna opposta, ma per i gemelli meglio uno scontro, meglio avere a che fare con qualcuno magari in male uomo piuttosto che dover stare lì e in qualche modo anche sai a Natale il giorno dei convenevoli se vogliamo, anche davvero un po' finito, ok, io mi sei libero e adesso tornate ad essere voi stessi, per il cancro invece ho un pizzico di nostalgia e di malinconia per i giorni che sono appena passati.